Ciao a tutti, sono Marco Magnani, sono un giocatore di palacanestro, gioco nei Lugano Tigers Serie A Svizzera e dal 2011 che mi alleno qui a Stone Sport e dal 2011 che mi alleno costantemente per migliorare quelle che sono le abilità come giocatore ma soprattutto come atleta. Il viaggio qui è iniziato appunto qualche anno fa un po' per caso, sono entrato qui da Stone Sport cercando degli integratori e da lì mi sono fatto un po' incuriosire da tutte quelle che erano, tutti questi nuovi metodi di allenamento che per me erano sconosciuti e è stato un po' così per gioco, per sfida, ho iniziato con Antonello Azzeni un percorso che all'inizio era mirato soprattutto a migliorare quelle che erano un po' gli scompensi fisici che avevo e che mi portavano ad avere disturbi cronici, soprattutto tendiniti alle ginocchia, fasciti, piccoli disturbi che però venivano fuori soventemente e quindi non mi permettevano di godermi appieno il fatto di giocare e di essere atleta. Quindi abbiamo iniziato veramente a lavorare facendo esercizi soprattutto sulla stabilità e su tutta quella parte di muscoli interiori che permettono di avere comunque flessibilità, mobilità articolare, tutte queste cose che diciamo erano un po' la base che a me mancava e che mi hanno da subito aiutato tantissimo e continuo ancora oggi così di Antonello, continuo Stone Sport perché penso che come mi ha aiutato negli ultimi anni mi aiuterà anche in futuro e come mi ha aiutato l'anno scorso, nel 2014, a dare una mano alla squadra e vincere il campionato nazionale, sono convinto che anche in futuro posso aiutarmi a raggiungere i miei traguardi sportivi.